Il mondo dell'arte culinaria della cucina ha un'anima pop, può essere la cucina non solo per addetti ai lavori ma spiegata e fatta conoscere al grande pubblico, lei l'ha dimostrato. Esatto, io ci ho provato 11 anni fa quando nessuno credeva, adesso la cucina è molto di moda, la fanno tutti, però io l'ho fatta, questo è un merito che nessuno mi può togliere quando nessuno ci credeva, anzi era una cosa strana parlare di cucina in televisione, invece il fatto di averla resa un po' varietà, il fatto di aver dato delle ricette molto popolari è stato il successo ed è tuttora il successo della prova del cuoco.